E ogni giorno spero che questa sera antica ritrovi il strancio, forza e voglia di volare. Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna, oggi siamo il 15 di maggio del 2023, potete trovare il video sul mio canale quando ho fatto un video, perché vi metto in descrizione che questa pianta di ciliegio e la varietà ferrovia era tutto pieno di fiori, che poi ho detto nel video che la maggior parte, diciamo, la maggior parte cadono, diciamo, i frutti che non le porta avanti. Come potete vedere, guardate che c'è la cascola, faccio vedere meglio, di vicino, state vedendo queste ciliegie che si sta ingrossando, qualcuno cade per terra, questo, guardate quando ce ne sono per terra, guardate che c'è qua, è pieno pieno, questi, tutti quei piccioli, sono tutti, tutti ciliegie che non sono state portate avanti. Praticamente, questa cascola, diciamo, avviene soprattutto per mancanza, diciamo, di imbollinazione, o per lo meno non sono state imbollinate bene, o per lo meno l'embrione di dentro è morto, diciamo, il seme, il seme di dentro è abbottito e non dà più nutrimento, diciamo, alla ciliegia e muore. Il seme di dentro, diciamo, muore, abbottisce, diciamo, e non dà più nutrimento alla ciliegia finché quando cade. E questo qua è il risultato, poiché si può verificarsi anche la cascola, che so, dell'abbassamento delle temperature, dopo la fioritura, da caldo a freddo, e può verificarsi anche, diciamo, questa manifestazione della cascola. Ripeto, guardate quando ce ne sono, io nel video precedente, quando ho fatto il video, ho detto che la metà vanno avanti e la metà poi la pianta li fa cadere, perché questo succede ogni anno. Guardate quando ce ne sono, è pieno pieno. Quello che vedete, tutti, diciamo, i piccioli delle ciliegie che sono state, diciamo, esposte dalla pianta, perché, come ho detto poco fa, non li portavano avanti o, perlomeno, non sono state imbollinate o, perlomeno, diciamo, maggior parte abbottiscono, diciamo, abbottisce l'embrione di dentro, diciamo. state vedendo, quando ce ne sono qua, state vedendo, queste, queste, come cade, state vedendo, che mano a mano il seme e la ciliegia si, state vedendo, la ciliegia, viene un po' disidratata, perché non viene più nutrita da seme e muore. vedendo, queste stanno andando avanti, ovviamente, questo, questo vantaggio, diciamo, dalla cascola, influisce, poi, la pianta, che dà più nutrimento, diciamo, alle ciliegie, dovendo, quando sono più grosse, perciò, tutto il nutrimento, che dovrebbero, che doveva dare a tutti, diciamo, le ciliegie che sono cadute, prendono vantaggio, tutte le ciliegie, e si incrossano, state vedendo, qua, visto, ancora qua, qualcuno di questi qua, cadono, non è che le sto tirando, basta che le tocchi, si vede che cadono, state vedendo, come questa qua, state vedendo, questa già, era, se non era oggi, era domani che cadeva, e il resto, no, diciamo, non sono tutte, diciamo, tutte la fioratura che voi vedete, ma non è tutta, tutti, tutti ciliegie, diciamo, insomma, la metà, diciamo, si può dire che cadono tutte per te, come potete vedere, qua, sono un sacco di ciliegie, chiamiamole ciliegie, che sono cadute, ripeto, la cascola può avvenire, sia per l'abbotto, diciamo, dell'embrione delle ciliegie, ossia che insieme muore, diciamo, che non botta più nutrimento alla ciliegia, e muore, cade per terra, ossia anche per mancanza, diciamo, di nutrimento alla pianta, potassi che non ha molto nutrimento alla pianta, per dare, diciamo, a nutrire tutte le ciliegie, e potassi anche, che si è verificato, ovviamente, un po' l'abbassamento della temperatura, ovviamente, oggi, oggi ci sono 13 gradi, in questi giorni ha fatto una bella, delle bellissime giornate, qui in Sicilia, perciò, potassi anche per l'abbassamento della temperatura, traccata al freddo, perché, a maggior parte, viene dopo la fioritura, dopo che è finito da poco la fioritura, si può verificare, se si abbassa la temperatura, si può verificare, diciamo, questo fenomeno della cascola. Vabbè, ora io vi faccio vedere che questo, questo fenomeno, tocca anche, diciamo, la pianta di susino, che ho visto poco fa, che ci sono anche cose per terra, e questo capita anche nella pianta di pero, diciamo, a volte è pieno pieno di pero, perciò, e avviene la cascola, e poi cadono, come ho detto poco fa, cadono, per questi motivi, le altre piante, diciamo, da frutto. Ora vi faccio vedere il susino, che si è verificato anche questo fenomeno. Guardate, guardate, come il susino, state vedendo, è lo stesso del ciliegio, la cascola, fa cadere, diciamo, diciamo, i frutti, che ancora non sono maturi. Guardate quando ce ne sono, tutti per te, questo è un susino, ora vi faccio vedere, che qualcuno ancora sta cadendo, come questo qua, che già è caduto, come queste, e si ingrossano, diciamo, si ingrossano i frutti, state vedendo qua, un attimino mi sposto che c'è l'ombra del sole, questi frutti, state vedendo, si ingrossano i frutti, state vedendo questo qua, avete visto qua che c'è uno, è caduto, state vedendo questi qua, questi cadono solo e sole, state vedendo, anche i latocchi cadono, come ho spiegato poco fa, del ciliegio, state vedendo, questa è la cascola, già automaticamente la pianta, fa cadere i frutti, che non può portare più avanti, come ho spiegato poco fa, del ciliegio, questo è il susino, ovviamente la cascola, è anche del pero, come c'è qua un pero, che qualche frutto può cadere per terra, quando ce ne sono abbastanza, qua c'è qualcuno, non è pieno pieno, per terra, non ne sto vedendo, vediamo, niente, può capitare anche, ripeto, anche del pero, la cascola, e niente, ora torniamo di nuovo del ciliegio, così concludo il video, avete visto del susino, anche del pero, vi ho fatto vedere, questa della cascola, e niente, io vi ho detto, vi ho spiegato subito giù, perché le ciliegie, diciamo, che non sono ancora mature, cadono, vi ho spiegato, che possono essere, ripeto, questi fenomeni, sia l'abbassamento delle temperature, dopo la fioritura, tra calda a freddo a fredda a caldo, quello che sia, sia anche il nutrimento della pianta, che non è stata nutrita, ovviamente non botta avanti tutte le ciliegie, sia anche per l'abbotto dell'embrione, che muore, diciamo, il seme muore, e non dà nutrimento alla ciliegie, finché quando cade, questi possono essere i primi fenomeni, diciamo, principali della cascola del ciliegio. Va bene, allora, io vi ho spiegato subito giù, perché non lo sapesse, vi ho spiegato il fenomeno, perché cadono, diciamo, i frutti, le ciliegie cadono per terra, state vedendo, è pieno pieno, è pieno di ciliegie, perciò, quando sarà il momento, già piano piano stanno cominciando a cadere ancora di più. Allora, io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò, se non siete iscritti sul mio canale, iscrivetevi, così quando, caro convito, sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi dell'Etna, una buona giornata, ciao.